Per effettuare una lettura in Modbus TCP con un TM221 provvisto di porta Ethernet, per prima cosa è necessario andare ad indicare l'indirizzo IP del dispositivo server. Il TM221, che sarà il client, ovvero colui che si occuperà di effettuare le richieste, ed il dispositivo server, devono trovarsi all'interno della stessa rete, con indirizzi IP appartenenti alla stessa famiglia. Per aggiungere l'indirizzo IP del server, andiamo nella scheda configurazione e sotto la porta Ethernet clicchiamo su Modbus, e nella tabella modalità client, tabella dei server remoti, andiamo ad aggiungere l'indirizzo IP del server. Una volta fatto questo, spostiamoci sulla scheda programmazione, ed andiamo ad aggiungere nel rang il blocco ReadVar. In testa al blocco funzione, inseriamo un contatto normalmente aperto, che ci permetterà, una volta chiuso, di eseguire il blocco. Facendo doppio clic sul blocco ReadVar, entriamo nella scheda delle proprietà. Andiamo ad indicare, sul link, la porta Ethernet, ed il numero ID, che punterà la tabella configurata in precedenza. Indichiamo il tipo di richiesta desiderato, in questo caso lettura di registri multipli. In First Object andiamo ad indicare l'indirizzo del registro di partenza. In Quantity andiamo ad indicare il numero di registri consecutivi dati che verranno letti dal client. In Index Data andiamo ad indicare l'indirizzo delle %mv appartenenti alla nostra mappa dati, su cui troveremo i dati letti. Una volta fatto questo, sarà possibile chiudere il contatto %m messo in testa al blocco ReadVar ed eseguire il blocco funziona.